Accessibile è meglio. Io sono Roberto Bugliese e credo che l'arte, come tutto, dovrebbe essere studenti accessibili a tutte le persone. Non può esserci un'aristocrazia della cultura come non può esserci un'aristocrazia della società. Tutti abbiamo gli stessi diritti e tutti abbiamo gli stessi domini. Quindi cosa dirvi? Vi aspetto numerosi e di smappa.